Immaturi la serie, trama, cast e data d'inizio Immaturi la serie in autunno su Canale 5, trama e cast. Una delle fiction media set più attese della prossima stagione televisiva è Immaturi la serie, ispirata all'omonimo film del 2011 diretto da Paolo Genovese a cui seguì Immaturi il viaggio. Quando inizia? Non è ancora stata comunicata la data ufficiale ma dovrebbe andare in onda su Canale 5 prima di Natale. Il film raccontava la storia di sei amici trentotenni costretti a ripetere l'esame di maturità a causa di un errore burocratico, pena l'azzeramento dei titoli successivamente conseguiti. In Immaturi la serie, i protagonisti non danno l'esame da privatisti ma frequentano tutti insieme l'ultimo anno di liceo. Nella fiction, in otto puntate, diretta da Rolando Ravello, ci sarà parte del cast originale e volti nuovi. Tre defezioni eccellenti, Raul Bova, Luisa Ranieri e Ambra Angiolini. Ricky Memphis tornerà a vestire i panni di Lorenzo, agente immobiliare bambuccione che vive con i genitori ed è segretamente innamorato da una vita di una sua ex compagna del liceo interpretata da Irene Ferri. Immaturi la serie, quando inizia? La trama. Immaturi la serie, le cui riprese sono durate otto mesi, è stata girata nel liceo Terenzio Mamiani di Roma. Luca Bizzarri e Paolo Cassisoglu saranno ancora Piero e Virgilio. I due amici erano inseparabili ma a causa di una donna non si sono parlati per più di 20 anni. Nella serie Piero cercherà di sedurre e corrompere in vista degli esami l'algida professoressa Claudia, Ilaria Spada. Tra le nu entri anche Daniele Liotti e Nicole Grimaudo, rispettivamente Daniele Francesca. Daniele è un professore di matematica bello ma con un vizio segreto che subirà il fascino dell'allieva Francesca. Sabrina Impacciatore vestirà i panni di Serena, una donna ricchissima e snob che perderà tutto e dovrà ricominciare da capo. Nel casta anche Maurizio Mattioli, Paola Tiziani Cruciani, Nini Bruschetta, Paolo Calabresi, Carlotta Antonelli. Tutto è pronto dunque per l'inizio di Immaturi la serie. Grazie per la visione!